Grazie a tutti. Grazie a tutti. Toute la CGT et le peuple français est choqué et bouleversé comme des millions de personnes dans le monde par ces événements tragiques. De nouveau, de nombreuses vies ont été arrachées, des familles mortes par la perte d'un être cher, un ami, un camarade de lutte. Allora, piangiamo i nostri morti e soffriamo con i nostri feriti. È il popolo che è stato colpito, sono i giovani ad essere stati falciati. Toute la CGT est choquée comme des millions de personnes dans le monde par ces événements tragiques. De nouveau, de nombreuses vies ont été allontanées par leurs familles pour cet attacqué de mort. Et molti di noi hanno perso cari amici e compagni di lotta. Ces attentats perpétrés sur des lieux de culture et de vie frappent e concernent chacune e chacune d'entre noi. De tutte religion, d'origine e di nationalità. «Pourquoi? Pour qui? Et quelle femme?» Depuis plusieurs années, nous vivons au rythme d'un attentat tous les quinze jours. Il y a quelques temps tous les attentats de Turquie, Russie, Beyrouth, hier encore le Mali. «Questes attentats perpetrati in lieux de culture et de vie attacchent et preocupent chacun de nous et attacchent toutes les religions, toutes les origines et toutes les nazionalités. Perchè? Per chi? Con quale fine? Di anno in anno viviamo con un ritmo d'attentato ogni quindici giorni. Sono passati pochi tempi dalle attentat in Turquie, in Russie, Beyrouth, hier encore le Mali. «Rien n'excuse, rien ne justifie l'assassinat des gens du peuple. La guerre ne règle rien, au contraire. Les lieux de tension et conflits se multiplient avec leur cortège de mort, de destruction, de désolation et de haine. Les multiples interventions militaires en Irak, en Syrie, en Libye, et j'en passe, loin d'instaurer la démocratie, ont généré un appauvrissement des populations avec des centaines de milliers de victimes et une impasse économique et sociale. C'est le terror sur lequel le terrorisme se développe, poussant des populations entières sur le chemin de l'exil. Nessuna scusa, nessuna giustificazione all'assassinio dei popoli. La guerra non risolve niente, al contrario. I luoghi di tensione e conflitto si moltiplicano con i loro cortei di morte, di distruzione, di désolazione e di odio. Les multiples interventions militaires en Irak, en Syrie, en Libye, lontano d'instaurer la démocratie, ont généré encore plus l'impoverment des populations avec centaines de milliers de victimes et avec une crise économique et sociale. C'est le terrain sur lequel le terrorisme se développe, poussant des populations entières sur le chemin de l'exil. Avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la déclaration de l'OIT en 1944, l'ensemble des pays de la planète avaient affirmé que seule la justice sociale serait facteur de paix. Bon nombre de gouvernements aujourd'hui l'ont oublié et font le contraire, dont la France, qui oui, fait la guerre et occupe le deuxième rang mondial des mandats devant la Russie et la Chine. Subito dopo la fine della Seconda Guerre mondiale, con la declarazione dell'OIT en 1944, l'insieme dei paesi del pianeta avevano affermato che la sola giustizia sociale sarebbe stata portatrice di pace. Un gran numero di governi l'hanno scordato e fanno il contrario. Ecco quello che fa la Francia nel momento in cui fa la guerra e occupa il secondo paese al mondo per la vendita di armi davanti alla Russia e alla Cina. La CGT exige l'arrêt di tutto commercio d'armes avec gli Etats che portano i liens con i terroristi. Elle demande che la priorità soit donnata alla recherche di soluzioni multilaterali dans le cadre dell'ONU. La CGT exige l'arrêt di commercio delle armi e la fermatura di qualsiasi rapporto con gli Stati che supportano i terroristi. Domanda che la priorità sia data alla ricerca di soluzioni multilaterali nel quadro dell'ONU. Il Presidente della Repubblica Francese ha decretato lo Stato d'urgenza in Francia per un periodo per il momento di tre mesi, con delle misure restrittive in maniera di libertà individuale e collettive. Non è con qualche modifica della Costituzione che riusciremo a fermare il finanziamento agli armamenti dei terroristi. La CGT oeuvre per preservare i diritti e la cittadinanza a tutti. perché finché non ci sarà una tregua contro il mondo del lavoro, non ci sarà una tregua nell'azione sindacale per il progresso sociale. C'è in questo senso che la CGT ha solicitato una rencontra con il Governo sullo contenuto delle future modificazioni costituzionali, envisagate e per le misure a prendere all'anno nel senso delle attenzioni dei salariati, delle popolazioni nel cadre dell'Etat d'urgenza. La CGT riaffia queste valore di paese e la democrazia in suo combattere per il progresso sociale. E' in questo caso che la CGT ha solicitato un incontro con il Governo sui contenuti delle future modificazioni costituzionali, soprattutto per quanto riguarda le misure prese contro anche i salari e all'interno del quadro dell'urgenza. La CGT riafferma i valori della pace e della democrazia e continuerà la sua battaglia per il progresso sociale. La CGT riafferma i valori della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, e della laicità necessaria al fondamento del vivere insieme. La CGT rifiuta tutte le stigmatizzazioni degli stranieri come amalgama tra l'immigrazione e il terrorismo. Grazie a tutti i messaggi di condamnazione e di soutien reçu per il mondo. La CGT metà l'urgia ne pouvait ne pas essere avocatata in questo giorno di manifestazione in favore della paia. Il nostro movimento sindicale europeo e mondiale deve più che mai essere unito e rassemblato e offrire le persettive di avvenire per la paia, le droit e le libertà umane. Vi ringraziamo tutti per i messaggi di condanna e di sostegno ricevuti da tutto il mondo. La CGT metàlmeccanica non poteva che non essere al vostro fianco in questa manifestazione in favore della pace. In questo momento i nostri movimenti sindacali europei e mondiali devono più che mai essere uniti per riunirsi e aprirsi a delle prospettive di avvenire per la pace, per i diritti e per le libertà umane. Grazie ancora Isabella, Roe, Oriate e Lazis.